Domani alle ore 18.30 a Ponte Cagnano-Faiano sarà celebrata in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale, una messa solenne presso la Chiesa Maria Santissima Immacolata, sito al corso Umberto I. Ad ufficiare il rito sarà Don Antonio Pisani. La funzione religiosa avverrà in ricordo il suffragio del compianto Archimede Ventre, l'agente in servizio presso il comando di Ponte Cagnano-Faiano, prematuramente scomparso lo scorso dicembre. Alla fine della messa, la presentazione del calendario della Polizia Municipale, la presenza del comandante Franco Lancetta, dell'assessore alla Polizia Municipale Michele Roberto Di Muro e del sindaco Giuseppe Lanzara. Una copia dell'almanacco che contiene una documentazione fotografica delle attività svolte negli ultimi mesi dall'intero corpo verrà consegnata alla famiglia Ventre, quale simbolo di riconoscenza e gratitudine per l'impegno profuso dal professionista negli anni della sua permanenza nel comune vicentino.